Hutchinson, uno dei soci di TCT, gestore del molopoli settoriale, ha spostato 5 linee di trasporto container da Taranto al Pireo. L'ha deciso unilateralmente, adducendo come motivazione la scarsa performance dei lavoratori di TCT. Ma non ha mai spiegato qual è il piano industriale e quale futuro ci sia per il porto di Taranto. Questa mattina i segretari generali di CGL Cisla Will, Di Sabella Fumaroletturi e dei sindacati di categoria Fiorino, Castellano e Resta, hanno sollecitato le autorità e le istituzioni locali a reagire e a essere compatti di fronte al rischio che il terminalista TCT lasci Taranto. L'azienda non ha mai risposto né chiarito le sue intenzioni, hanno detto. Per questa ragione è stata sollecitata la riunione della consulta per lo sviluppo. Giancarlo Turi, della Will, ha parlato di scarsa cultura industriale e giuridica di TCT e ha sottolineato che spostare linee di trasporto significa creare una crisi. Daniela Fumarola, della CISL, ha sollecitato Hutchinson a dire a cosa vuole fare dello scalo tarantino, mentre Luigi Fiorino, della Filt CGL, ha dichiarato che stanno realizzandosi le condizioni per mettere addirittura in discussione la concessione di 60 anni ottenuta da TCT per gestire in posizione di monopolio il molo polisettoriale. I sindacati hanno formalmente annunciato che non reagiranno con uno sciopero perché difendono il poco lavoro che c'è e per non fornire un alibi alla società. La decisione di preferire il Pireo rischia di avere anche ricadute negative sull'occupazione e richiama, ha ricordato Fiorino, il piano industriale del 1998 che prevedeva di movimentare 550.000 container con 800 lavoratori, mentre oggi lo stesso volume di traffico viene smaltito da appena 560 portuali. Luigi Di Sabella, segretario della CGL, parla di mancanza di trasparenza del concessionario e mette in evidenza che TCT deve sempre tenere presente che i gold di una concessione pubblica.